Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo nell'episodio finale di Poppy Playtime Capitolo 2. Buona visione! Allora, vediamo se questa è la parte giusta in cui andare. Penso di sì. Attiviamo questa leva. Se ce la facciamo... Stiamo andando su. Questa? No, 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 aspetta. Perché dovrei andare giù? Ok. Quindi sto mandando i giocattoli di là. Devo cercare di fare arrivare i giocattoli qui su. Questo. Ok. Perfetto. Sali. Oh, aspettate. Non è che posso andare di qua? No? Ho la sensazione che non dovrei stare qui, però. Non so. Mica ho buggato il gioco. No! Quanto azzardare. Devo andare lì? Corri! No, raga. Aggrappati. Andiamo di qua. Oddio! Mettiamo il giocattolo. Scannerizzazione. E ora entriamo. Entriamo di qua. Ovviamente sempre questi condotti maledetti. Di cui non mi fido mai. Porta gialla. Non posso aprire le porte per ora. Quindi mi sa che devo andare indietro. Ma si è attivata una musichetta? Sì, raga. Si è attivata una musichetta. No, no, no. Per favore. Non facciamo queste cose. Aiutatemi a finire questo gioco. Per favore. Puntualmente non mi riesce mai, raga. Ma come c***o si fa? Ma com'è possibile? Io sono il nemico di me stesso. Sono morto più volte per colpa mia che per colpa dei mostri. Vai! Ci voleva tanto. E ora? Oh! Ok. E ora? Oh, devo fare presto. Lui! Lui! Ok. Ok, non si apre? Ho fatto tutto questo inutilmente? Sembrava un ascensore. Di qua forse? No. Che devo tornare indietro? Oddio, che c***o di paura, raga. Ecco perché non si apriva la porta gialla. Mi stanno tendendo una trappola. Eccola già! Affanculo! Eccola già! Raga! 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 No, 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 no! Apri! Apri! Affanculo! No! No, 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 no! Apri! Apri! Mi sta lasciando dieci secondi per scappare! Bastarda! Oddio, raga! Tre! Due! Che devo fare? 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 Raga, aiuto! Raga, aiuto! Non so dove sto andando, raga! Aiuto! Di qua! Raga, non si sta facendo sentire! Aiuto! Aiuto! Vai! Dove sto? Oddio, raga! Non sto capendo! Dove vado? Vai! Ok! Non funziona la leva, ovviamente! Oh! E ora quale leva devo tirare? Non lo so! Nessuna? Vado via e basta? Oh, aspettate! Allora, in ordine! La rossa! La blu! La verde! E la gialla! Sì? Perfetto! Vai, corri! Corri! Raga, questa dove sta? Non lo so! Ma dov'è? Raga, sto sputando come non so cosa! Oh! Non va! Dove vado? Sopra! Sopra! Cosa di paura, raga! Di paura di paura, raga, porca troppa! Sopra! Oh! Oh! Questa non mi dà un attimo di tempo per capire dove andare! Allora mi sa che devo andare! Allora mi sa che devo andare lì! Eccola! Oddio, raga! Guardate quanto è brutta! Corri! Proviamo ad andare lì! Vai! Tirati! Oddio, veramente non mi ha visto? Veramente non mi ha visto? Non voglio scendere? Veramente se n'è andata? Allora, vediamo qui come possiamo uscire! Abbiamo attivato una fornace! Qui manca la rotella! Dove la trovo? Manca anche qui! Allora, quella rossa mi sa che è per questa zona! Ah, ok! Si è creato l'ingranaggio! E lo andiamo a mettere qui! Oh! Vai! Oh no! Affanculo! Madonna che cazzo di paura! Oh no! Affanculo! No, che faccio? Mi chiudo qui dentro? Vai! Oddio! Oddio, che faccio raga? Ho sbagliato! Ok, non mi ha notato? Se n'è andata? L'abbiamo fatta franca un'altra volta? Oddio, però raga sta diventando veramente spaventoso questo gioco! Ah! Un'altra volta, madonna! Raga, io non ci arrivo a fine video! Ah! Un'altra volta! Oh! Oddio! 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 Dove vado? No, raga! Di qua! Oddio! 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 puoi essere scostumata vai, vai, oddio, ti prego vai vaffanculo, raga, non c'ho un attimo di tempo per mirare riuscirà il nostro mineforce a finire il video? dai, dai, dai vaffanculo perché non prende? perché non prende? sì, raga, sì dove, di qua? oh no lo sapevo, raga, io devo sempre morire quando salto in questo modo ma com'è possibile? vai, ok, ok, raga dai, ce la posso fare tira la leva corri oddio non mi sta più seguendo? raga, c'è qualcosa che non quadra dov'è? oddio eccola mammi, ti prego mammi vai vai oddio vai oddio oddio cosa hai fatto? ciao ma chi è? edward mani di forbice? ma mi stai dicendo che c'è qualcosa di peggiore di mammi che mi sta aspettando? ah, siamo tornati alla stazione oh, eccoti 4, 3, 1, 2 sarà sicuramente un codice l'hai uccisa? bene dobbiamo andarcene raga, questa bambolina ha cambiato un po' atteggiamento o sbaglio? andiamo a prendere il treno scappiamo da questo posto, raga le figure sono in ordine ora il colore è rosso giallo, rosso, blu rosso giallo, rosso blu e ora l'ultimo pezzo del codice è 4, 3, 1, 2 quindi 4, 3 1, 2 ah andiamo via ti prego fa che fili tutto liscio si parte veramente ce ne stiamo andando? mi hai salvata no raga lo sapevo che sta succedendo? sto andando troppo veloce lei in pratica ha cambiato binario per non farmi scappare vai ferma il treno oddio ce la faccio? oh oddio e mi faccio una bella dormita fine del capitolo 2 oh mio dio ragazzi ho sudato malissimo ho molto molto apprezzato questo capitolo per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale attivando la campanellina io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao